Questo video parla di una giornata dei Mods di Torino per rappresentarvi quello che facciamo noi al sabato e questo è un sabato molto particolare perché il sabato è il Flamingo Mod Club che sarebbe la serata che viene organizzata annualmente dai Mods di Torino Normalmente ci troviamo su Piazza Satuto alle 4.30 e siamo pronti a conoscervi tutti, a confrontarci con voi, a sapere cosa ne pensate di noi, se volete conoscerci, noi siamo qui. Piazza Satuto alle 4.30 Piazza Satuto è una cosa molto importante, molto personale, che significa rispettare dei valori collegati a un parterre culturale che va da un certo tipo di musica e quindi da Oscar, Nord, Soul, il beat e dalla musica secondo me personalmente parte tutto il resto e quindi la passione per l'abbigliamento degli anni 60, da lì agli scooter e tutto questo indirettamente ha anche ripercussioni sul modo di pensare e continuo a credere in questo stile di vita che mi ha dato tanto e mi darà tantissimo, ne sono sicuro. Piazza Satuto alle 4.30 Piazza Satuto alle 4.30